Il Val di Chiana Outlet Village sponsorizza il navigatore Stefano Rossi in forza al team Marrini nella griglia di partenza della Dakar 2017. Nella categoria Car sono 79 i team iscritti, di cui 6 sono italiani, ma solo uno è a rettino al 100%, quello composto da Stefano Marrini, pilota, e Stefano Rossi, navigatore. Il logo Val di Chiana Outlet Village compare sulla fiancata della nuovissima Toyota Land Cruiser L200. Il numero da cercare sarà il 381 e sul track Iveco di assistenza. La Dakar è una competizione leggendaria. L'edizione 2017 si concluderà il 14 gennaio in Sud America su un tracciato spettacolare ed estremo attraverso Paraguay, Bolivia e Argentina. La Dakar è per noi piloti quello che le Olimpiadi rappresentano per un atleta, ha detto il navigatore Stefano Rossi. Una gara spettacolare che dà il giusto merito mediatico a una disciplina sportiva importante come il fuoristrada 4x4 e agli sponsor che la sostengono. La Dakar ti prende e non ti lascia più, ha detto il pilota Stefano Marrini. È una grande esperienza di vita, un imperdibile momento di full immersion con motori in mezzo alla natura. Una natura spesso complicata e ostica, ma sempre una grandissima sfida, il cui unico obiettivo è arrivare alla fine, cosa non facile. Certo, per partecipare occorrono uomini, mezzi sponsor tecnici e risorse non indifferenti. Marrini allora ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto in questa spedizione il suo team, in particolare il Valdichiana Outlet Village che ha deciso di affiancarci, commenta Marrini e scommettere con noi in questa avventura.